Romina Stilo, questa mattina una riunione in Commissione Trasparenza con l'Associazione Promaresca in vista di un consiglio comunale monotematico in programma per il prossimo martedì. L'abbiamo fortemente voluto sia noi dell'opposizione che anche i membri della maggioranza, anzi che ringrazio vivamente perché parlare dell'ospedale, affrontare le problematiche l'ospedale è un problema di tutti che non ha colori politici. Io mi auguro che vengano tutti quelli che abbiamo invitato, innanzitutto il sindaco nella duplice veste di sindaco, quindi capo dell'istituzione ma anche del presidente della Commissione Sindaci As Napoli 3 Sud e poi il dirigente generale Sosto, importantissimo perché comunque dovrebbe un po' relazionarci spiegare cosa sta accadendo. Noi relazioneremo, nel senso che comunque faremo un verbale che comunque inviamo anche in Regione. Mi auguro che intervengano comunque anche esponenti della Regione Campania perché sono stati invitati, ma anche per ascoltare la voce del popolo torrese perché comunque noi saremo il portavoce dei rappresentanti, non solo delle associazioni, i rappresentanti dei cittadini. Noi vogliamo un ospedale, un ospedale che funzioni al 100% perché oggi purtroppo non si muore soltanto di Covid. Secondo lei la città di Torre del Greco non ha il giusto peso politico per la Regione Campania? Io penso che proprio il nostro Consiglio Comunale, la nostra amministrazione dovrebbe avere il giusto peso politico perché sappiamo benissimo che un'amministrazione comunque di sinistra, un'amministrazione dove il sindaco in primis all'appoggio del nostro comunque consigliere regionale Loretta Naraia, dovremmo avere l'appoggio di Mario Casillo. Noi chiediamo proprio a loro di intervenire, proprio a gamba tesa. Vorrei dire a questi signori che ci hanno chiuso il pronto soccorso, almeno ci dite dove è che dobbiamo andare a morire. Non è fattibile chiudere un pronto soccorso a Torre del Greco perché ancora tutt'oggi arrivano pronto soccorsi ma non sanno dove rivolgersi. Anestesisti che di notte sono stati allontanati dal Maresca per andare a Bosco Tre Case. Loro devono farsi carico di aprirci al più presto un pronto soccorso, con emergenza urgenza, un pronto soccorso ordinario che può abbracciare tutte le patologie di questa città perché solo negli ultimi 20 giorni signori sono morti 4 persone in casa per infarto. La battaglia per il Maresca in questa città va avanti da molti anni ma in questi anni la politica a tutti i livelli che cosa ha fatto? Nulla, zero, nulla. Nessuno, destra, sinistra, maggioranza, opposizioni, ognuno se l'è passato per la testa. Non hanno capito che qua nessuno immune può capitare a chiunque di avere bisogno del pronto soccorso per qualsiasi patologia. Basta, anche i politici si devono affiancare a noi e fare una lotta per questo nostro ospedale. Torre del Greco ha bisogno di un ospedale. Cari politici, smettetela solo di fare solo passerelle e aiutateci. Basta. Io come medico non mi spiego come possa ospitare dei pazienti Covid senza più l'anestesista fisso, senza le subintensive e senza le intensive che pur erano previste dal piano sanitario regionale ancora prima e nel numero di otto intensive dell'emergenza Covid. Restituiteci l'ospedale di pronto soccorso con i servizi minimi previsti dalla legge. Non ci interessano i reparti che fanno intervento di elezioni in questo momento. Io rivolgo la domanda ai miei amici consiglieri, che sono amica di tutti, comunali, regionali, cosa dite ai vostri elettori e ai vostri familiari? Perché se consentite che vada avanti questo vuol dire che avete anche una risposta da dare. Io e tanti cittadini non ce l'hanno sta risposta. Per piacere illuminateci. Questa è la mia preghiera.